Abbiamo iniziato questa giornata capendo come ci forano e adesso cerchiamo di capire come leviamo le castagne dal fuoco. Abbiamo con noi Riccardo Zorn e Davide Dalpaos, che vengono da Roma, dove operano con la loro azienda di servizi web tmg.it e sviluppano anche estensioni di Joomla. Ci faranno capire come si disinfesta un sito dopo essere stati gentilmente attaccati. A voi! Buonasera! Io e Davide ci occupiamo dal 2006 di Joomla, anzi dai tempi di Mambo, e abbiamo negli anni fatto una serie di clienti di medio-grosse dimensioni, realizzando un sacco di componenti ad hoc e cercando molto spesso di forzare i limiti di Joomla laddove era possibile. Abbiamo adottato Joomla in ambienti enterprise, quindi portando i livelli di sicurezza al massimo, portando anche sistemi di produzione con sviluppo, server di test, staging e produzione separati, tenendole allineati. Questa esperienza ci ha dato modo anche di realizzare alcuni componenti che poi abbiamo distribuito sul GED, per mirare alcune delle problematiche più comuni. Delle informazioni che vi forniremo, oltre alle slide, ci sarà parecchio materiale da scaricare, tutti gli strumenti che andiamo a presentare saranno documentati, ci sono i link, quindi non dovete impazzire a prendere appunti adesso. Allora, sia che abbiamo avuto un'infezione di un baco apparentemente innocuo o di una cosa mostruosa a 18 test, la nostra reazione, non potendo sapere a priori di che cosa si tratta, deve essere esattamente la stessa. Schiacciarlo schifosamente. Nell'arco di questa breve presentazione vedremo alcuni dei sintomi più evidenti del fatto che siamo stati attaccati e la maggior parte dell'intervento sarà dedicato a come procedere nel ripristino. Dopodiché vedremo quali sono le operazioni di prevenzione urgente e meno urgente da fare e poi come monitorare questa situazione idilliaca di un sistema pulito nel tempo per assicurarci che rimanga tale. Sintomi. Se siamo stati attaccati, lo siamo stati per lo più per installare uno spam bot e quindi avremo un carico di sistema e delle code di mail che impazziscono per fare phishing oppure spam di qualche genere e quindi avremo un traffico aumentato oppure soprattutto nel caso che il nostro sito o uno dei passaggi in mezzo sia monitorato da un host attento o da un sistema di analisi o analytics eccetera, potremmo ricevere avvisi di terza parte. Attenzione, il vostro sito potrebbe essere stato attaccato. I sintomi fisici che noi possiamo rilevare sul server sono file nuovi o modificati, modifiche al database e la compromissione di altri siti sullo stesso server, questo specialmente se l'host non garantisce una buona separazione tra i siti e sempre se la configurazione dell'host non è troppo solida, i privilegi con cui viene eseguito il nostro sito potrebbero essere tali da permettere l'infezione del sistema operativo e quindi installazione di rootkit e vari stratagemmi, adesso li facciamo rientrare tutti sotto il nome di backdoor, con cui un attaccante anche dopo che il sistema è stato disinfettato può rientrare e continuare a fare il suo comodo. Veniamo alla parte calda di questo intervento, come usciamo dal pantano. Vedremo la parte più urgente da fare che è cercare di minimizzare l'impatto di questo attacco, poi come effettuare una diagnosi completa, quantificare i danni e come fare una pulizia. Solo che noi siamo sotto attacco, quindi il nostro sito presumibilmente lo dovremo mettere offline e abbiamo una fretta del diavolo, quindi vedremo di condensare la diagnosi, la quantificazione e la pulizia in un unico passaggio, procedendo per passi e togliendo un'infezione alla volta. La prevenzione urgente è quella che farà sì che il nostro sito ripulito non venga rimbucato dopo cinque minuti, sfruttando la stessa vulnerabilità che ci ha fatto attaccare all'inizio. Premessa. Finché non abbiamo tolto di mezzo l'infezione e verificato che il sistema non sia stato effettivamente compromesso e che il punto da cui sono riusciti a entrare per caricare quel singolo file o fare quella SQL injection che ha dato inizio all'attacco, noi possiamo ripristinare il sito allo stato iniziale e ce lo ribucheranno. Quindi dobbiamo essere estremamente metodici, possibilmente calmi, anche se abbiamo dietro al collo un cliente che comincia a telefonare e il mio sito è giusto, sto perdendo 2000 euro all'ora, che è normalmente il tipo di pressione a cui si è sottoposti quando c'è un attacco. Allora, per prima cosa, il sito attuale è compromesso, quindi la cosa ideale è rinominare la route del sito e metterci una pagina di cortesia, tante scuse, ci stiamo lavorando e passare al passo successivo. Se abbiamo un sito grosso con un buon traffico o che genera utili importanti, può essere disponibile un server di testo di staging sul quale girare al volo i DNS. Solo che, visto che questo server di testo di staging sarà quantomeno vulnerabile quanto quello di produzione, se non di più, dovremo prima renderlo read-only. Non entro nel merito di come farlo, però diciamo in questo modo possiamo dare all'utente un'impressione, un'apparenza di continuità di servizio. Fatto questo, ci prendiamo il nostro sito, un dump del database, e ce ne andiamo, possibilmente su un altro server a lavorare, oppure in locale su una macchina virtuale, oppure fuori root. Comunque fuori dalla root web, perché chiaramente abbiamo avuto un attacco, magari ci hanno messo una backdoor PHP nella root, se noi gliela lasciamo lì, questi continuano a usarla. Quindi, rinominiamo la root, ne mettiamo un'altra, ne mettiamo un index HTML, read-only, quello dovrebbe essere sufficientemente sicuro. Ora, siamo in una condizione in cui ci siamo messi il nostro sito bello infetto da una parte, nessuno ci può accedere, quindi non può peggiorare la situazione, e abbiamo Joomla, 4000 file, abbiamo Joom Social, 10.000, Community Builder, insomma, i numeri salgono rapidamente. Quindi, non possiamo pensare di controllare manualmente 10.000 file, e neanche 4.000, quindi dobbiamo seguire una strategia, ce ne sono diverse, per evitare di controllare Joomla e le estensioni, cioè quelle cose che possiamo riscaricarci pulite dal sito del produttore. Dopodiché, utilizzeremo una serie di strumenti per aiutarci a individuare l'infezione, Maldet è il principale, ma ce ne sono tanti altri, e questo ci permetterà di scremare, speriamo, oltre il 99% dei file del nostro server. gli altri, a mano. Per prima cosa, ci impostiamo una struttura di directory, io adesso ho creato tutto sotto root attack, e dentro in fetto, ho tutti i miei file appena presi dal sito, e il database. Un dump del database, si può fare anche, con phpMyAdmin, dal vostro pannello di controllo dell'hosting, oppure con MySQL Dump. Poi farò una copia fotostatica di questo file, che chiamo lavoro, dove andrò a applicare pian piano, le varie correzioni, finché non avrò un sistema pulito, e poi una cartella di riferimento sicuro. Questa cartella è il nostro problema, cioè, noi abbiamo bisogno di eliminare dagli indiziati, tutti i file che possiamo, perché così abbiamo meno file da controllare. Se il sito è molto semplice, un sito con nessun componente extra, qualche contenuto, magari un template, per sicuro può andare bene l'update package di Joomla. Cioè, l'installazione, tutti i file forniti da Joomla, vanno benone. Se il sito è, ha un po' di componenti, per costruire un pacchetto sicuro, dovremo installare il sito, su un'altra macchina, pulita ovviamente, quindi una macchina virtuale che creiamo ad hoc per l'esigenza, ci installiamo sopra tutti i componenti, l'insieme dei file di quella macchina sarà sicura. I componenti devono essere la stessa versione che abbiamo installato sul server di produzione, quindi, o abbiamo da parte gli zip, oppure dobbiamo impazzire a scoprire le versioni che abbiamo installato, e andarcela a riprendere dai siti dei produttori, una per una, ammesso che tengono uno storico. Quindi, conservate gli zip dei documenti, dei componenti, delle estensioni che caricate, non vi costa niente. Meglio ancora, appena avete finito di produrre un sito, prima che sia reso pubblico, fatevi uno zip. Un minuto, vi mettete da parte sti 20 mega, e tra due anni, quando lo bucano, perché tanto prima o poi qualche sito viene bucato, avete il pacchetto pronto. e questo vi fa risparmiare tantissimo tempo. Meglio ancora, se il sito è un sito dove avete sviluppo, oppure un'attività continuativa, oppure un cliente che continua a chiedere modifiche, utilizzare uno strumento di controllo delle versioni del codice. Se io ho git sul mio sito, nel momento in cui temo di aver avuto un attacco, git status, e mi dice è stato modificato index.php. Questo è piuttosto utile. E poi dopo vado sotto e vedo che c'ho un db-sql che è fuori dal repository e un file di template. Tre file da controllare. Se ho svn, stessa cosa. svn-st mi dà un punto di domanda sui file fuori dal repository e una m di fianco a index perché è stato modificato. Questo ovviamente non lo possiamo fare su quei siti da 500 euro perché comunque i git svn costano. Quindi il nostro zip dell'installazione originale nel caso del sito a basso costo serve ampiamente lo scopo. Allora adesso vediamo rapidamente una registrazione di una pulizia. Quindi io ho calcolato nella mia cartella infetto il Joomla e infetto. lo copio sul lavoro e ci entro dentro e cerco di scoprire che versione di Joomla è. Se c'è un change log è una 1.5 se c'è un Joomla.xml sarà una 2.5 che adesso mi tiro fuori è una 2.5.8 vado sul sito dello storico di Joomla entro dentro i pacchetti in questo caso mi accontento dell'update package se devo ricostruire un pacchetto completo dovrò prendermi la full e reinstallarci sopra tutte le estensioni. faccio un download abbiamo tagliato 10 minuti entro dentro la mia cartella e di lavoro e ci sparo sopra questo aggiornamento nel caso avessi lo zip del sito originale ci sparerei quello cancello tutti i file temporanei sono file che posso cancellare a cuor leggero non ci deve essere niente di importante lì dentro non vi dimenticate la cartella administrator cache questo già avrà tolto una parte dell'infezione a questo punto uso maldet maldet si fa una scansione e mi restituisce una urla del report vedete maldet meno meno report che eseguita mi dà un elenco dei file infetti dei file che lui pensa essere infetti non saranno tutti i file infetti perché non è che becca al 100% però è un buon inizio qui adesso ho una bella immagine che lui mi dice che è un trojan ci vado a guardare dentro e vediamo un pochino che cosa troviamo ok non è un'immagine un trucchetto che si può provare non è che abbia molto successo perché se l'hosting è impostato correttamente una jpeg non viene eseguita però adesso qui c'è un file ancora più sospetto un mod msn qualcosa dentro una cartella mod google vediamo cosa c'è dentro presumibilmente porcherie non c'è neanche il jxec e qui c'è disabilito gli errori no decisamente non è un file legittimo di joomla un file legittimo di joomla deve cominciare con jxec in questo caso direi me la sento di eliminare tutta la cartella a pie pari se io però cancello un componente di joomla legittimo joomla non si avvierà quindi bisogna stare attenti a questa scelta e a questo punto sono rimasto con la necessità di fare una diff cioè faccio un confronto tra la cartella sicura e la cartella infetta la cartella infetta avrà qualche file in più questi file in più saranno immagini pdf eccetera caricati nella cartella images e questi qua per ora li ignoriamo e poi ci saranno una serie di altri file che potrebbero essere le infezioni oppure qualche componente che abbiamo aggiunto dopo l'ultimo aggiornamento di joomla o comunque qualcosa di cui possiamo tenere traccia e andare a vedere dobbiamo andarcela a vedere manualmente soprattutto tutti gli eseguibili tutti i file php dobbiamo guardarceli subito per quanto riguarda le immagini se un sito con un social network sopra avremo un milione di immagini è impensabile guardarsele tutte vedremo dopo come proteggere la cartella images dall'esecuzione con un semplice htaccess per cui due click e possiamo passare avanti poi questo non toglie che noi dobbiamo fare un controllo di questa cartella per vedere se non ci siano delle immagini che in realtà sono brutti mostri mascherati da immagini questo finita questa procedura noi avremo un sito perfettamente pulito come file ci resta il database il database potrebbe contenere attacchi di cross-site scripting oppure spam dentro i contenuti abbiamo fatto un dump del database siccome questi dati possono essere ovunque dentro a qualunque componente non possiamo pensare di controllarli con uno strumento grafico del database prendiamo il dump sql e ci facciamo sopra un pochino di grep un pochino di espressioni regolari per cercare script iframe http un sito joomla che lavora su se stesso non dovrebbe avere nel database neanche una volta la stringa http se ce l'ha un po' di volte lo vediamo velocemente se è il nostro sito o no fatto questo se dovessimo trovare delle schifezze degli iframe inseriti degli script dobbiamo pulirli e abbiamo di nuovo i file a posto e un database pulito quindi il nostro sito è perfetto però ha ancora le vulnerabilità che l'hanno portato a essere compromesse in primo luogo abbiamo fretta quindi abbiamo il cliente che vuole andare online ci sono comunque delle cose indispensabili che dobbiamo fare prima di poterlo mettere online questa l'abbiamo chiamata prevenzione urgente utente a pass e MySQL soprattutto se la macchina è gestita da noi dobbiamo assicurarci che siano utenti limitati a quel singolo sito e se non lo sono che gli altri siti del server non siano stati compromessi se no ne aggiustiamo uno ci bucano quell'altro ci bucano quell'altro aggiustiamo quell'altro e non passiamo non finiamo più dobbiamo aggiornare Joomla e le estensioni andare sulla Joomla vulnerable extension list che è una lista di cui hanno parlato anche altri anche David prima e altre persone è fondamentale se una vulnerabilità viene scoperta e pubblicata l'estensione relativa viene sospesa dalla Joomla extension directory finché non la aggiustano e viene pubblicata nel GED verifichiamo sempre che le nostre estensioni non siano in questa lista per questo è una buona prassi una volta che abbiamo imparato a usare un'estensione riutilizzarla su quanti più siti possibili perché questo ci permette intanto di ridurre la curva d'apprendimento perché già sappiamo come funziona e poi volendo anche ci possiamo permettere una code review o magari un giro sui forum a vedere se qualcuno ha trovato vulnerabilità verifichiamo di avere il SEF abilitato volendo no il SEF ci protegge un minimo perché espone meno URL del CMS e mettiamo un HT access nella root dentro a images tmp cache e logs cioè in tutte le cartelle che devono essere scrivibili perché Joomla possa funzionare possiamo opzionalmente bloccare administrator soprattutto se abbiamo avuto un attacco su administrator con una password aggiuntiva oppure con un vincolo al nostro IP statico o dinamico e poi diamo un'occhiata a mano anche al configuration PHP che non ci nasconda delle sorprese e un pochino di spam Little Helper è un componente che abbiamo scritto per soddisfare alcune delle esigenze più comuni che abbiamo sui siti Joomla una è appunto proteggere le varie cartelle con gli HT access è un'estensione gratuita e con qualche click ci permette di creare al volo gli HT access e gli index HTML qualora li avessimo cancellati con un RM meno RF come ho fatto io prima dopodiché ci permette anche di creare degli HT access nella root facendo un test avete visto che qui è fallito il test con il primo tentativo che sarebbe con follow sim links poi dopo ha fatto senza il follow sim links siccome è scomodo ogni volta prendere un terminale per fare queste prove lui si fa questa questa operazione per conto nostro e poi ci aiuta anche a fare le favicon per gli Apple allora abbiamo controllato che Apache e MySQL girino con utenti che sono privati di questo sito abbiamo messo gli HT access a proteggerci e abbiamo indurito un minimo la sicurezza del nostro sistema aggiornato Joomla e le estensioni e possiamo andare online tutta questa operazione richiede circa 10 minuti più il tempo di analizzare i file infetti che sono stati aggiunti più il tempo di realizzare il pacchetto sicuro iniziale quindi questo tempo di realizzare il pacchetto sicuro iniziale pensate quanto vi costa scoprire le versioni delle estensioni che avete installate la versione di Joomla tirare giù da ogni sito di produttore la versione giusta ricomporre tutto il pacchetto e installarlo fatevi uno zip ve lo mettete da parte e non ci pensate più veniamo alla prevenzione differibile prevenzione differibile richiede intanto estensioni di protezione jsecure è già stato menzionato è un ottimo strumento ce ne sono altri rs firewall eccetera non sono obbligatori ma aumentano la sicurezza nel nostro sito non esiste una soluzione sicura al 100% però possiamo rompere le scatole a chi cerca di romperle a noi rendergli la vita più difficile visto che si tratta di un bot non è che continua a insistere finché non trova la vulnerabilità ne sta cercando una se non trova quella è finita possiamo proibire la esecuzione non safe dall'htaccess però questo richiede un controllo manuale del sito perché alcune estensioni legittime richiedono l'esecuzione diretta spesso nelle chiamate ajax e continuiamo a tenere sempre sotto controllo le estensioni vulnerabili per assicurarci che nessuna delle nostre sia stata attaccata e teniamo Joomla e le estensioni aggiornati ora tenere Joomla aggiornato è un click e lo facciamo tutti spero il giorno stesso in cui esce la nuova versione ma aggiornare le estensioni è veramente una grossa seccatura perché dobbiamo andarci a vedere i siti dei produttori pochissimi hanno l'update automatico ma vale veramente la pena di aggiornare le estensioni questa tabellina qui in blu indica le estensioni negli ultimi 13 anni in arancione quelle negli ultimi due anni Joomla ce n'ha due e la questo blocco qui Joomla extensions sono le 50 70 segnalazioni aperte negli ultimi due anni per cui non è Joomla che viene bucato il problema grosso sono le estensioni vulnerabili che hanno vulnerabilità di SQL injection o file upload e lì veramente vi fanno male e a me non è mai successo che bucassero un Joomla usando una vulnerabilità di Joomla sempre usando una qualche estensione i siti vecchi Joomla 1.5 sono veramente i più terribili e la serve un controllo continuo se non avete una buona conoscenza sistemistica e il tempo da dedicarci sicuramente un host dedicato vi può servire vi può aiutare a togliere molti mal di testa non è un tipo di lavoro che si può fare a mano nel budget di un cliente che non ci paga neanche per aggiornare da Joomla 1.5 alla 3 ripilogando abbiamo fatto tre copie del sito ci siamo presi l'infetto l'abbiamo fatto una copia e ci abbiamo applicato sopra una copia sicura poi abbiamo cancellato tutti i file temporanei possibili abbiamo applicato la nostra copia sicura sopra quella di lavoro e questo ci ha lasciato con una serie di file potenzialmente infetti li abbiamo prima controllati con un anti-malware per tirar fuori quelli sicuramente infetti controllati ed eliminati dopodiché diff e ci siamo guardati quei file che ancora erano diversi come potenzialmente infetti tutti i php li abbiamo puliti aggiornato Joomla controllato la configurazione del sito messo gli htaccess e siamo tornati online già che ci siamo appena finito di aggiornare questa versione con tutti i crismi di sicurezza facciamoci un altro archivio perché magari sul server c'è un rootkit potremmo aver bisogno di ripristinare subito soprattutto se l'infezione è a livello di sistema operativo il nostro sito può essere perfetto però ci eviteremo di ripetere di nuovo tutto questo lavoro buonasera sono Davide Dalpaos e vi volevo parlare di uno strumento efficace per capire se qualcosa non funziona nel nostro server tipicamente quando qualcosa non funziona potremmo essere sotto attacco oppure il lavoro di pulizia di cui ci ha appena parlato Riccardo non ha portato ai risultati che ci aspettavamo questo strumento è un sistema di monitoraggio del server sul mercato se ne sono sul mercato se ne sono diversi Zabbix Nagios Cacti tutti altrettanto validi e tutti quanti più o meno lavorano nello stesso modo cioè vengono collezionati dei dati dei valori sui vari server potrebbe essere un unico server oppure migliaia di server i dati sono string possono essere valori numerici possono essere dei log vengono trattati se necessario vengono storicizzati quindi possiamo vedere cosa è successo il giorno prima oppure anche un mese prima e se c'è qualcosa che differisce dalla norma da quello che ci aspettiamo vuol dire che c'è qualcosa che non va quindi il sistema si avverte con un email con un sms con un messaggio su jabber decidiamo noi come e noi possiamo intraprendere le azioni necessarie per risolvere tempestivamente la problematica vediamo subito un esempio entriamo nel vivo in questo grafico vediamo un picco evidente questo è il grafico della coda dell'email di Exim questo picco significa che qualcuno sta mandando tantissimi email probabilmente qualcuno che usa il nostro server per fare spam phishing mandare un qualcosa che noi non vogliamo in questo caso il sito non era neanche stato compromesso buccato stavano usando una forma legittima però non protetta da un sistema anti spam per mandare in giro per il mondo dell'email di pubblicità risolta la situazione come vedete il picco non c'è più sempre la coda dell'email di Exim qua vediamo altri due picchi però questi due picchi sono legittimi è il nostro cliente che sta mandando la sua newsletter quotidiana quindi sempre spam sì però è un spam autorizzato dal cliente quindi per noi va bene il cliente si paga per mandare la newsletter lasciamo che vada la cosa perché vi ho mostrato queste due slide per dire che questo è uno strumento poi il lavoro del tecnico è sempre necessario dobbiamo comunque fare un'analisi a posteriori un ultimo esempio qui il carico del sistema va schizza a 140 stanno facendo un attacco brute force su administrator su siti multipli fanno circa 5 attacchi al secondo su ogni sito quindi il server diventa di fatto inutilizzabile il problema è stato risolto con htaccess come abbiamo parlato anche gli altri c'è la soluzione come possiamo monitorare il nostro server e cosa dobbiamo monitorare sul nostro server gli strumenti di monitoraggio già hanno delle preconfigurazioni sei anni fa quando ho iniziato monitoravo poche cose poi con l'esperienza con la conoscenza di server ho implementato decine e decine di controlli che mi permettono di tenere sempre a bada le situazioni anomale alcuni esempi possono essere la coda delle email sicuramente abbiamo visto l'esempio prima l'incremento dei file di log quando incrementano repentinamente siamo qualcosa che non va l'attività sul database naturalmente il numero di processi di apache quando sono tante persone che si collegano insieme al nostro sito potrebbe essere un attaccante o un tentativo di brute force i processi di apache aumentano il carico del sistema naturalmente il traffico di rete possiamo anche monitorare direttamente dei parametri del nostro sito ad esempio se la pagina se la home page cambia siamo di fronte a un defacement oppure se alcuni file strategici si scambiano tipo l'htaccess o il configuration php dobbiamo intervenire possiamo anche vedere se alcuni strumenti di verifica accessori vengono eseguiti correttamente ogni giorno e qual è il loro risultato ad esempio jomscan che è uno script che controlla vulnerabilità di zoomla maldet di cui ha parlato Riccardo oppure gli strumenti per controllare se c'è un rootkit installato sul nostro server installare questi programmi è veramente semplice si scaricano e con una istruzione si installano più o meno le configurazioni di base vanno bene quindi vi consiglio vivamente di installarli perché basta veramente poco mi aiuti a fare un reticolo grazie grazie allora abbiamo visto qualche indizio abbiamo visto qualche indizio per capire se siamo stati attaccati quali sono i possibili punti di ingresso i file che dobbiamo e i sintomi che dobbiamo andare a cercare come eseguire l'intervento di ripristino di fatto riducendo la quantità di file sospetti e controllando gli altri a mano quali sono le operazioni di prevenzione indispensabili che dobbiamo fare e poi come assicurarci che tutto continui a funzionare correttamente non abbiamo parlato di gestione del rischio se noi abbiamo dei siti a basso costo e a basso traffico se vanno giù per un giorno probabilmente non succede niente se abbiamo un cliente con un contratto con SLA dobbiamo garantire un uptime elevato e quindi dobbiamo avere un piano di gestione del rischio che significa avere una serie di controlli continui un monitoraggio in piedi una manutenzione sia al server che a Joomla e alle estensioni continua e un piano delle emergenze che coinvolga più di una persona che contenga i riferimenti le password i percorsi le procedure dove teniamo le copie di backup chi è l'amministratore a cui ti devi rivolgere per avere un accesso git di quel dato cliente eccetera e questo è una cosa indispensabile anche se sta nella nostra testa deve esistere però se ce l'abbiamo in testa scriviamolo e magari il nostro collega lo può eseguire quando noi siamo in vacanza sempre che esista la vacanza questo intervento lo troverete sul sito del Joomla Day e in più qualche risorsa e approfondimento e il papiro con tutte le istruzioni che abbiamo dato e il video completo saranno su Faster Joomla questi sono alcuni degli strumenti che abbiamo usato vi ringrazio per l'attenzione Riccardo e Davide allora domande in sala ripristine veloci prego ci penso io il microfono c'è la nostra palletta scusami Alessia lì guarda grazie grazie ciao sono Massimo senti niente io avevo un sito con la vecchia 1.7 1.7 e sì esatto format è successo quello che ha preso virus in una in un file js .js non mi chiedere non mi ricordo precisamente si era infettato tutto come se si apriva un pop up e succedeva il pandemonio io ho ripristinato avevo un backup per fortuna lo zip lo rimetto su 4 ore dopo risuccede tutto la capo la stessa cosa quindi praticamente ho scoperto che alla fine il virus se l'era beccato il server con tutti annessi e connessi è stato giù per due settimane con il con l'hosting ovviamente il problema era loro non era più un problema solo del sito mio perché era il problema non era solo il mio sito andava su tutti i siti di quel server lo stesso problema ce ne avevo tre e gli altri due ho scoperto che era la stessa cosa quindi probabilmente non era un buco di Joomla ma un buco che hanno fatto sull'hosting ma in quel caso io che posso fare? una cosa fondamentale quando siamo in hosting condiviso è cambiato l'hosting sicuro se abbiamo un hosting condiviso i backup devono essere in casa ci sono un sacco di motivi per cui l'host può decidere di sospendere il sito e sono assolutamente legittimi ma se anche non lo fossero non è che noi possiamo discuterci se i loro criteri di sicurezza dicono il tuo sito deve essere spento tu devi avere un backup in casa e trovarti un altro hosting immediatamente poi magari Joomla 1.7 forse non è il massimo all'epoca un anno e mezzo fa no anche all'epoca noi abbiamo fatto molta fatica per tenerli sui siti Joomla 1.7 perché avevano attacchi veloci cioè in continuazione cose diverse no ti faccio un esempio io sulla mia pelle realizzato un sito per un comune nella nostra zona obbligati a utilizzare un hosting condiviso della regione hosting condiviso forato partita lettera a tutti i comuni state attenti perché si formatta al serve perché non ci si leva più le gambe la lettera è stata ignorata completamente un bel giorno si arriva tutti i comuni abbuiati il 90% non avevano i backup ripartire da capo quindi backup 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 a casa nel cassetto nel cassetto altre domande? là benissimo volevo solo riportare un'esperienza ovviamente drammatica allora su un sito che ha tanto traffico ci siamo accorti una sera stavamo facendo degli aggiornamenti che era lento 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 fuori misura ovviamente abbiamo chiamato subito il gestore del cloud in un cloud dedicato che disponibilissimi si sono subito messi al lavoro per capire cosa stava succedendo c'era un attacco però era molto strano da IP diffusissimi questo è un sito che lavora in tutto il mondo quindi era anche difficile dire banno quella parte di mondo perché arrivava dappertutto quindi significava chiudere comunque anche al traffico buono sito molto complesso ci sono un sacco di componenti sempre aggiornatissimi perché per forza di cose insomma alla fine da una parte così ironicamente abbiamo pensato di deviare tutti quelli che facevano queste chiamate dirette come di search all'interno del sito da frontend non agivano sul io non sono tecnicissima però il problema lo sentivo vivamente perché avevo il cliente ovviamente alle costole e loro cioè questo attacco praticamente andava poi l'abbiamo capito dentro il sito a K2 come gestore di contenuti e avevamo attivato la buchetta della ricerca di K2 praticamente facevano continue chiamate ma miliardi di chiamate da IP diversi su questa buca di ricerca questo intasava fuori misura tutte le chiamate andava giù il sito continuamente abbiamo capito dopo un po' ovviamente abbiamo spento questo modulo in frontend è finito tutto ok io non so se questo cioè dopo funziona tutto io però quel coso non lo riattivo tanto per capirci però mi piacerebbe capire avevamo anche avanzato l'ipotesi però avevamo in 4-5 in linea di redirestionare sulla Disney proponeva qualcuno però cioè al di là dello scherzo come si fa a capire perché fanno una cosa e come evitare che risucceda se io riattivo una cosa di questo tipo in questo caso è una responsabilità vostra perché non si tratta di un baco di sicurezza ma di un componente abusato ma comunque anche quando c'è una responsabilità del componente cioè il componente ha una falla non è l'host responsabile ma siamo comunque noi che gestiamo il sito a essere responsabili anzi sono stati gentilissimi quelli dell'host è impossibile se non facendo test preventivi controllando il carico con le funzioni di debug di Joomla possiamo vedere quanto carica ciascuno dei moduli quali pagine sono più lente e Apache permette di essere configurato per sapere quanto dura ogni chiamata per cui poi dall'access log ci andiamo a vedere ah guarda tutti quelli che fanno questo ci mettono più di 2 secondi o più di 500 millisecondi sul database stronchiamo questa funzione però questa che è ottimizzazione colli di bottiglia parliamo diffusamente di ottimizzazione sul nostro sito Faster Joomla ok non so se abbiamo tempo per un'altra domanda sì ultima ultima veloce risposta veloce veloce nei miei siti ho sempre montato un componente che non sta nello IED di Joomla che si chiama iSite scusate microfono per favore nei miei siti ho sempre montato un componente che non sta nello IED di Joomla che si chiama iSite permette da un ogni accesso di controllare quale file e lo individua è stato cambiato anche di un solo k dall'ultima volta che ho fatto accesso quindi questo permetterebbe di recuperare facilmente un file che è stato cambiato ora con Joomla 3 non lo trovo più e non funziona voi conoscete qualche cosa di analogo che possa essere utilizzato? se il server è vostro potete usare git o svn quello è uno strumento di versionamento del codice vi dice tutte le modifiche al file system del sito diversamente non so un CRC ma non so non conosco niente ma penso che sul JED ci potrebbe essere qualcosa non so l'estensione sicuramente più menzionata è Jsecure per evitare gli attacchi diretti RS Firewall ha una funzione di controllo del CRC e forse anche un admin tools mi sembra però non ricordo bene benissimo grazie arrivederci grazie a Riccardo e a Davide e adesso andiamo avanti